Direttore Gianmarino, per il Pineto Calcio domenica è stata la prima vittoria in campionato, risolta nel finale da Stefano Maddio. Ora altre tre partite che potrebbero dire molto sul futuro e sul momento meglio del Pineto. Sì, diciamo che domenica la partita è stata risolta negli ultimi minuti, anche se era stata giocata con oculatezza e anche bene. Poi il gol preso a freddo non siamo riusciti a ribartarla subito, però penso che ai numeri finali il Pineto ha strameritato di vincere contro una formazione comunque forte perché la Sangiustese ogni anno mette in campo delle formazioni competitive con lo stesso allenatore da tre o quattro anni, non mi ricordo. È chiaro che abbiamo fatto una nostra partita. Vi aspettavate sin dall'inizio un campionato così equilibrato con quello del Girone F di Serie D? Anche l'anno scorso la partenza da parte nostra non è stata bellissima, però il campionato nelle prime giornate rispecchia un po' l'andamento degli altri anni. All'inizio ci sono squadre che giocano senza pressione, senza problematiche e poi chiaramente di solito i valori delle squadre escono fuori. E' chiaro che adesso all'inizio le squadre che cor fa tanto caldo, le squadre giovani hanno qualcosina in più da dare, dipende anche dal tipo di preparazione che si è effettuato, però io penso che poi alla fine i valori come ogni anno escono fuori. Poi ci sarà sicuramente la sorpresa o le sorprese del campionato, quelle ci stanno sempre. Il gioco del calcio è questo, forse è il più amato proprio perché è imprevedibile. Negli ultimi giorni sono andati via Deni Nazari, Marianeschi, è arrivato però un pezzo grosso di mercato, l'ex bandiera del Teramo Calcio Ivan Speranza. A che punto è l'inserimento del difensore centrale ex Teramo? Ivan veniva da qualche mese in attività, non aveva più toccato palla, si era allenato, aveva fatto allenamento, corsa eccetera. Chiaro che adesso si deve rimettere a posto anche con il calcio, con il pallone, ma penso che nel giro tra 10-15 giorni Ivan sarà disponibile al 100% con lo staff tecnico. Penso che sia un giocatore importante per Pinedo perché ci darà quella maturità in più che poteva servire.